Ho accettato volentieri l'invito di Insight e di AIL di essere presente alla proiezione qui a Venezia del cortometraggio L'Ospite. È una prospettiva un po' inusuale da un punto di vista degli occhi di un clinico, di un medico, del percorso di un paziente con una malattia del sangue, una malattia neoplastica del sangue. Un percorso che inizia con il buio del film e termina con la luce della condivisione e dell'amicizia con altri pazienti. È un percorso anche che simboleggia il progresso che noi stiamo vivendo nel trattamento delle malattie neoplastiche del sangue e quindi è anche un messaggio positivo se il cortometraggio verrà visto da un paziente. Ma è anche un messaggio che viene lanciato ai medici ma anche ai decisori. Il rapporto medico-paziente non può essere esclusivamente limitato alla cura, alla gestione dei sintomi ma anche alla gestione del percorso del paziente con la malattia e con la terapia. Che in questo momento è sempre migliore, sempre più rispettoso della qualità di vita dei pazienti e come tale quindi la qualità di vita comprende il vissuto del paziente, il rapporto empatico che ci deve essere tra un clinico e il paziente affetto da malattie che spaventano. Grazie a tutti.